Da oggi in Campania c'è un'arma in più per combattere il Covid. Si tratta della pillola prodotta dalla Pfizer, il Paxlovid. Una cura che permetterà ai pazienti pauci sintomatici o con sintomi gravi ma trattabili a domicilio di poter ottenere la nuova cura direttamente dal medico di famiglia tramite la ASL. Il farmaco va somministrato entro massimo 5 giorni dopo il tampone positivo. La sua funzione è di bloccare la replicazione nell'organismo del virus. Secondo i dati scientifici dell'EMA previene l'aggravamento dei sintomi, quindi il ricovero fino al 90% dei casi osservati. Questo farmaco è destinato alle persone contagiate considerate a rischio. La pillola della Pfizer contro il Covid-19 però non può essere acquistata liberamente in farmacia ma sarà compito del medico di famiglia dopo un tampone positivo segnalare il paziente alla ASL o all'USCA di riferimento. Il farmaco è stato distribuito in queste ore alla regione Campania ed è già disponibile come spiega la dottoressa Giuseppina Tommasielli. È un'arma in più, un'arma importante che ci consentirà di deconcessionare gli ospedali e di trattare a domicilio i pazienti che si possono giovare di questi farmaci. Sono dei farmaci che assolutamente ben tollerati, non hanno effetti collaterali e quindi possono essere utilizzati con tranquillità nei pazienti in cui nei primi giorni della positività, nei pazienti in cui la progressione della malattia può avere una prognosi difficile perché hanno già altre malattie per esempio perché c'è una comorbidità. Gli effetti del Covid in questo momento sono molto sfumati. Abbiamo molti molti positivi, ancora tanti, ma pausi o asintomatici. L'età media è più giovanile rispetto a qualche tempo fa, questo per la copertura vaccinale certamente, ma gli effetti sono certamente, i sindomi sono pochi, scarsi e a volte veramente si controllano solamente con i farmaci sindomatici normali. Gli antivirali rappresentano veramente una nuova frontiera che ci consentirà assolutamente di decongestionare gli ospedali e nei casi in cui effettivamente si individua che la progressione della malattia potrebbe portare a complicanze gravi.